Su questo tema preferirei non parlare, oggi siamo a parlare dell'acqua e quindi visto che sono ai margini di questa cosa vorrei rimanerci. Preferisce non commentare Paolo Nannini, attualmente presidente di Nuove Acque ma anche ex commissario del lato Toscana Sud. Il suo nome era infatti finito nelle carte dell'inchiesta fiorentina sullo scandalo rifiuti per un presunto abuso d'ufficio. L'inchiesta aveva portato all'arresto del direttore generale del lato Toscana Sud Andrea Corti con le accuse di turbativa d'asta e corruzione. Per Corti erano stati disposti gli arresti domiciliari mentre era stata applicata la misura cautelare dell'interdizione dei pubblici uffici nei confronti di Eros Organi, amministratore delegato di Sei Toscana e Marco Buzzichelli, amministratore delegato di Siena Ambiente. L'inchiesta riguarda un appalto ventennale per un totale di circa 3,5 miliardi di euro. La gara era per la gestione completa del ciclo dei rifiuti nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto. Dopo l'arresto di Corti, l'intervento dell'autorità anticorruzione che aveva richiesto di avviare le procedure di gestione straordinaria di Sei Toscana e Siena Ambiente. A quel punto il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e presidente dell'Assemblea dei Soci a Toscana Sud aveva richiesto all'Assemblea di provvedere alla votazione di una mozione per richiedere il commissariamento di Sei e affidare la nomina del nuovo CDA al prefetto di Siena, richiesta poi sfumata. Si è infatti costituito invece e nominato dall'Assemblea dei Soci dopo le dimissioni in blocco del precedente CDA un nuovo consiglio di amministrazione per Sei Toscana guidato da Roberto Paolini.